Principe di Melfi! Cambia la storia di Revello in questo momento, attenzione! Cambia la storia di Revello in questo momento, attenzione! Cambia la storia di Revello in questo momento, attenzione! Cambia la storia di Revello in questo momento, attenzione! Cambia la storia di personaggio che sia avanti vi accompagnerà dal vostro gradevole ritorno alla vostra terra nativa e alla vostra antica forma, volontà e libertà! Ricordatevi a chi per le proprie reis, per la propria anima! E che Revello vi restituisce parte della vostra storia, della vostra memoria, Revello, un paese, andone a chi torna! E mi come Principe Nelfi, luogotenente, sua maestà imperiale, re Francia, vi porto a scoprirla! La prima che entra il Derege sarà il coraggio di entrare in cima a questa piazza! Che avvena fuori sarà il coraggio! Chi osa nominare il nome del Derege? Chi osa? Ho sentito una voce come provvedere dalle foglie! Certo, anche tu hai voglia di potrirti del sangue di quella gente! Come osate presentarvi qui da voi? A proposito, a proposito, se almeno la scadenza bombastardia, dimenti miei amici che vengono proprio da Isasca, come dice, e tantomeno da Cristo, e neanche da Montiberti, ma sono anche le piatterine appena le viste, come se colmesso la stupide assi al mondo, non ti sapete più rotondi! Diti che la paura non esiste! Lo so che anche te danno fastidio le voci di questi puzzolenti francesi! Lo so che anche tu, che sei un ribellese, ma cerca di stare tranquillo, almeno per un po'! Dì, a codesti, mangia rane, che noi non abbiamo nessuna paura, noi non temiamo per niente il loro affronto, e li scazzeremo, li faremo ritornare nelle loro foglie! Dì! 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 Ma già faccio ricordare, che sono un messaggio perché abbiamo anche il nostro nome, vivendo di secoli, e dimmi da morto per una alla fine di questa battaglia! Dì domani avrà la spine in me, avrà la spine in l'urie, avrà la spine in la renga, girerà sull'ultratumba, e la gente dirà Quello lì cantipi vengo, che si è a Campefora, i francesi della sua terra! Fa piramintano il giorno, tagli i pignini e i giorni a chi non sente, ricordatevi... Non ha capito una parola di quello che tu dici, un uomo che viene dal di là delle montagne, ma so che non ti fai nessunissima paura! E noi siamo gente di rivello, gente che è disposta a morire per difendere le proprie case. Ecco l'uomo, sono sceso a terra, sono alla tua altezza, nonostante l'altezza di un francese non arriva. Che a quest'altezza mia, viaggia lì. Senti, smia che si è già fatto a col, ha spesso in frittà, a frittà ziule. All'uomo ha già tutti io e che sei culo, vedessi. Ricordate, c'è chi è detto, anche se ti farà dirà. E' già successo, 1400 anni fa, e uno che ha tradito aveva la stessa tua faccia, Giuda. Che i due non ti tradirà per dare la Francia un'ora e giustizia. E mi come andam, anche io, la pretendo, tagliate la testa a me. Dov'è un crin da mazzè? Sassi qual è il crin? Sassi qual è il crin? Sassi qual è il crin? E mi dice che mi tagliare la testa come un maiole da mazzè. Oh, è una cacciao! Dov'è un crin da mazzè? E ti sottrarai assi insieme in chat. Sassi qual è il chat? Sassi qual è il chat? E' già là su, c'è il crin da mazzè. Da dove? C'è il crin da mazzè? C'è il crin da mazzè? C'è il crin da mazzè. C'è il crin da mazzè. Ah sì, no, su c'è la doppia. Ma io vedi quella è la doppia. Insieme a... Signori, mi sa che questi mangierane francesi parlano, 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 parlano e sanno solo parlare come delle vecchie meghine in chiesa inginocchiate a pregare. Noi siamo gente di ravello. Noi abbiamo il sangue, abbiamo il cuore e dobbiamo difendere la nostra città. Ricordi di voi, ci prepari a combattere quell'impasare. E se tutto lei lassù, su tutta la doppia si è mangiato nero su questa maniera che neanche il Dio ha perso una pezza, portè la luce la tua anima nera, ricordatelo. Il Dio è senza gli inventimenti come i marques amassare un fulle e masnà davanti alla culeggia indicando i comereni. Il Dio è troppo lungo. Signori, guffi, io sono stufo di sentire blatterare in una lingua così oscena, gente che viene al di là delle Alpi. Signore, io le parco i miei omaggi e dico basta con la lingua. Questa è la parola che ci sentirà su questa piazza se voi avrete il coraggio messere di avanzare di un passo. D'ultimo che l'ha stita bisogna essere anche ragione. Ma dopo sarei già traduita da Vettor, ricordatelo. Ho parlato del Gianduio ma non ho capito cosa c'è. Sarei già traduita dopo aver tolto anche se avete un ragione. E sarei io? Il Gianduio anche dicevi sarei io? No, le dite Dio d'angunfi piantali in mangi e fa sé ricordati che sono amnissi perché è volumano che il nostro ma vivano i secoli e ti mandano a morire dalla sastrazione di questa battaglia ricordati. E allora, mio caro Messere io traccio questa linea e guardatevi a chi vagna per essi abbi il coraggio di passarla. Ho un'arma sul tuffo di spedè Comandante Armes schierupo gli eserci pronti per la battaglia al Mazz Castello ma però prima speduma al Vesco da Triens che si dugna la benedizione e poi dopo tiruma la riga ma prima vi è il Vesco che si dugna la benedizione l'ultima tua benedizione vi porgo i miei omaggi Messere vi porgo i miei omaggi e vi porgo i miei omaggi che meritate mio caro Messere signori con questa gente non si può discutere preparatevi a combattere a gettare ogni vostra energia e il vostro cuore la vostra anima li seguiremo fino all'inferno e se non basso alziamo più in là Messere un peccatore tempra il mio cuore tempra il mio onore della Francia il giusto onore nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo il Signore ti benedica e ti protegga da ogni male nel nome del Padre Figlio e Spirito Santo vai sempre avanti in questo sistema e tu uomo di Chiesa che ti sei permesso di benedire quegli eretici vieni da noi e a noi la benedizione sia doppia perché noi meritiamo la vittoria un po' di parola ma tu fai solo la corruzione bravo ma a me non mi corrompi non corrompi nessun esercito ma il nostro è l'esercito che vincerà nel nome del Padre Figlio Spirito Santo nello Spirito Santo Amen mio Padre infinita misericordia che vuole la salvezza di tutti i uomini sia con voi e con il vostro Spirito combattete da veri uomini e che questo Paese sia liberato dai tiranni in nome del Padre Figlio Spirito Santo e combattete Amen Amen Grazie uomo di Chiesa e grazie a voi tutti frati che avete sacrificato la vostra vita la castità sono tutti frati sono tutti frati vergidi sali e puri pregano di giorno e di notte grazie a tutti i uomini che fa combattere le fumle signori ora voi siete stati beneletti e chi non muore oggi ha perso una grande occasione di andare da soli nel regno dei ceri guardate che si presenta il Marchesà quando le fumle combate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Voglio una tempesta di picche. Grazie a tutti. 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 Sei sei sei... Buongiorno Vars, Rus, Fregidor, squadre limpidi e sarei. Somma, non è le fiamme, non è l'algur, è il chiale limpidi, limpidi dell'onore. Somma, pronta, usè, somma, pronta, battaglia, somma, somma, pronta. Ameri, ovagnè, con le spade verso il cielo, con le picche verso il cielo, canta il moto della gloria. Forza, andiamo! Come on! Fuoco! Questo colpo è arrivato almeno fino a Saluzzo! Canone, abbasso il tiro! Rivandiere! C'è un morso! Guardate la loro fucileria, dimezzata, gente senza arti! Sì, anche voi, riunitelo per combattere la vittoria, sarà nostra! E voi donne, fate lo sciopero del sesso per mandare i vostri uomini a combattere! Forza, uomini! Forza! Non voglio che nessuno rimanga indietro! Forza, avanti! 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 Non arretrate! Non arretrate! Avanti! Avanti! C'è gente, ne va della vostra vita! C'è gente, ne va della vostra vita! Attaccare! Guardate la cucineria! Guardate la cucineria! Pezzi uomini! Senza arti! Quello che hanno a disposizione loro! Guardate la cucineria! Guardate la cucina! Guardate la cucina! Parta uomini!